un attore come no mi reciti un attimo una sua una sua preghiera musica per favore musica drammatica per favore le ha scritto lei queste preghiere? no in nomine Patris et Fili et Spiritus San signore Dio degli eserciti Gesù Cristo re onnipotente e immortale di tutta la creazione sovrano santo e giudice terribile di tutto l'universo onnipotente sovrano e potentissimo guerriero desiderando io di essere un tuo terribile e potentissimo guerriero con la tua spada sfolgorante a te oggi nella potestà invincibile del tuo santo arcangelo Michele e l'immacolata concezione mi offro, mi dono e mi consacro per distruggere con la tua spada spirituale Dio immortale degli eserciti la massoneria e il potere satanico di menzogna e inganno che la costruisce tu che sei il signore degli eserciti Gesù Cristo imperatore onnipotente e sovrano di tutte le schiere angeliche tu che sei l'onnipotente sovrano di San Michele Arcangelo e di tutte le potestà angeliche signore Dio degli eserciti Gesù Cristo donaci la potenza del tuo spirito santo nella tua spada spirituale secondo l'antica e vera tradizione e dottrina cattolica per combattere e distruggere spiritualmente la menzogna dell'inganno massonico del falso Papa Bergoglio e della setta satanica eretica massonica che ti sfida e osa mettersi al tuo posto in Vaticano così come in tutta la chiesa cattolica donaci lo spirito invincibile della spada di San Michele Arcangelo rendici guerri di spirituale di San Michele Arcangelo per distruggere il potere satanico globale transgenico che sta distruggendo la chiesa e usa il falso Papa Bergoglio per imporre il marchio della messa attraverso l'intelligenza artificiale che si appoggia sulle terapie geniche imposte alla popolazione mondiale come un preciso convocco dell'elite massonica mondiale che vuole la guerra contro Vladimir Putin mi sta scrivendo un importante ministro del governo vaffanculo mi sta scrivendo un importante ministro del governo di cui non posso citare il nome che dice ma dove cazzo li trovate questi? allora chi è? io d'altro volevo salutare il dottor Fedez scusi ho saputo dalle cronache dei quotidiani online che lei è venuto a Roma solamente per andare a fare un processo sul Codacons contro Codacons aveva guerrillato lei viceversa eccetera eccetera per farmi dire dall'undicesimo PM che ho ragione io sì ma scusi un attimo perché fate perdere tempo alla giustizia italiana? ecco beh non sono io loro mi hanno fatto caso all'undici questo c'ha ragione dottor Fedez anzi possiamo dire possiamo parlare di questa tecnica che alcune persone utilizzano dove ti fanno 800 cause e ti portano allo sfinimento dove se ti puoi permettere l'avvocato ti difendi se no per sfinimento c'è ma siccome a lei sono per me siccome a lei me lo posso permettere quindi me ne sbatto le palle oggi sono a Roma e sei stato assolto? no ha chiesto mi rinvio no l'ha atto a non procedere non l'uomo a procedere ciao Codacons guarda come mi diverto però scusi un attimo giusto? ma anche tu hai querelato il Codacons hai fatto anche tu una querela Codacons vi siete querelati avete fatto perdere tempo alla giustizia pure tu hai fatto perdere ma io ne faccio una se va bene bene se va male male loro ne fanno di più capito? adesso basta vuoi promettere che non quereli più nessuno? anche tu sei marato di querelite ogni tanto dici quello l'ho querelato ma c'è ragione dimmi chi ho querelato quante querele hai in ballo? io ho vinto una querela con Filippo Facci di cui adesso invece siamo in buoni rapporti basta poi che cazzo l'innominabile Salvini? Salvini no non c'è querela Salvini ma Gaspari mi ha dato dell'eroe nomale ma hai querelato nessuno e tu invece quante querele hai ricevuto? cintura nera di querele cintura nera pulita vabbè ma fai dire però non è che è solo no 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 proprio nemmeno persa nessuna nemmeno persa nessuna non ho capito ti posso fare una domanda su Muschio Selvaggio o no? no te la faccio io per una domanda fai me una domanda ma secondo te Muschio Selvaggio era meglio prima o è meglio adesso? la domanda è inappropriata perché? perché c'è un conflitto di interesse tuo che paracuri è un tuo conflitto di interesse perché? è ovvio che è meglio prima ma poi non possiamo rispondere perché siccome siamo stati i suoi ospiti sarebbe inelegante però io sono stato ospite nel periodo precedente anche lui anch'io no 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 tu no con il signor Gabrone io sono stato ospite nel periodo precedente quando c'era ancora Luis Salle e invece no comunque adesso non servo a vedere cioè che ti devo dire no ma ci sono non lo seguo cioè prima uscivano sempre spezzoni ma ancora ma va in onda? si è uscito oggi ma no ma io non ho nulla contro il signor Luis Salle ma è un dato oggettivo ma tu mi hai fatto la domanda di farmi parlare male di Luis Salle capito? cioè sei veramente uno stroppo Lui Mal è un regista francese Lui Mal bravissimo un grande regista francese Luis Salle Lui Mal Lui Mal è un regista francese che ha fatto un film strepitoso vogliamo dire al Codacons dove alloggia lei a Roma? ti prego no non si può dire non si può dire è stato uscito il video sono al De Rossi se vuole signor Rienzi venire a fare un aperitivo no nessun aperitivo con Rienzi lei ha qualche feticismo in particolare? no no un'altra cosa in realtà non volevo chiedere di questa signorina di cui parla i giornali perché a me non me ne frega un cazzo dei suoi rapporti privati ho sempre detto a me non me ne frega è quello che li sa di più di tutti in realtà no non è vero perché l'ho chiamato dicendo siccome me la doveva presentare per un motivo che adesso non sto qua a raccontare no no c'è notizia ma perché dici queste cose così ti dovo presentare una persona perché ama un'altra persona diciamo ha un debole per una persona e c'è voglio capire una cosa perché si occupano di te dei tuoi amori tu sei contento alla fine che si occupano di te dei tuoi amori ma secondo te io sono contento secondo me sì ma sei fatto secondo me tu un po' godi ma perché perché dici quando questa cosa finirà nessuno si ricorderà più di te e questo tu devi battere devi battere devi sconfiggere quelli che pensano che quando non si parlerà più dei tuoi figli di Chiara dei tuoi amorazzi che dicono che ti danno buca le donne questo dicono e questo ha dato due di picche non si parlerà più di te invece invece tu godi un po' a sentire ma perché in che modo quando leggi una cosa tipo la signora che ne so Ludovica quella che è ha dato buca a Fedez star system io rido come un matto ma infatti sì quando ci si hanno sentiti abbiamo riso di questo sì ma cosa ti fa pensare questo perché i media si occupano di queste cose per i click naturalmente ma è ovvio ormai i giornalisti sono i nuovi influencer ma tu ripeto tra Gramellini e Alessia Lanza un tiktoker non vedo molta differenza insomma Gramellini anzi scrive benissimo libri saggi lo leggono in pochissimi ma scrive benissimo ma perché c'è ma perché c'è un grandissimo giornalista ma questa signora qui non si sa lei legge Gramellini ma non sa neanche chi sa ma questa signora qua presentiamo Noemi Blond buonasera buonasera a tutti stai parlando di Noemi Blond che io non so io non so che il cazzo sia è un paese è una transessuale ed è qui perché rappresenta le transessuali che sono la categoria più cliccata di Pornhub Sì è vero io il mese scorso ho vinto diciamo come la la pornostar più cliccata al mondo e che cosa si vince cioè le danno un po' pazzino no no si vincono soldi comunque certo infatti ora sto facendo un altro concorso sempre su Pornhub e quanto si vince il primo posto sono 3000 euro quindi non sono proprio le posso chiedere le posso chiedere ad esempio chi è il ministro dell'interno così giusto per capire no vabbè io non mi occupo di politica lasso fare veramente il presidente della repubblica almeno il nome del presidente della repubblica lo sappiamo il presidente della repubblica chi è? si chiama? chi è? eh le condizioni di base cose normali del paese nel quale anche lei vive così oggettivamente questa è una domanda legittima Sergio? Mattarella oh è verissimo presidente del consiglio vabbè questo è fai ma posso dire a volte se fate queste domande i politici stessi non fanno rispondere a queste domande questo può essere scusi lei la sua caratteristica principale perché a un certo punto lei ha nascosto per una vita il fatto che lei avesse l'uccello perché l'ha nascosta questa cosa? allora io sono stato un po' scoperta all'epoca da Riccardo Schicchi il grande maestro l'irreprensibile eh sì perché comunque io sembro piccolina però sono grande è una trans vecchia praticamente sono anziana ormai sono anziana cioè consumata e lui mi ha beh no quello non ancora del tutto dai però piano piano ci arriveremo e niente lui mi ha sempre detto comunque lasciamo un po' il mistero visto che comunque ho iniziato con i video ma scusi non ho capito quando facevate i video non si vedeva che c'era sì però non ero così non avevo proprio tutta l'attrezzatura grazie grazie di questa sua testimonianza importante e lui dopo ha preso mi ha detto inizia magari con gli spettacoli una volta che comunque ti inizia a modificare dove mette come nascondeva io tuttora faccio comunque gli spettacoli gli strip eccetera mi spoglio completamente nuda e riesco a nascondere benissimo dunque uno è un superpotere praticamente sì dunque uno è incerto è incerto se lei si è trans o no resta con l'incertezza diciamo che coloro che salgono sul palco con me non sono tanti incerti visto che comunque leccano ah fanno queste cose ma io non andrei molto nei dettagli se c'è una puntata complicata io forse lei mi può lei mi può lei mi può spiegare perché gli italiani secondo lei hanno questa attrazione attrazione fatale perché in Italia cliccano maggiormente i filmati è vero è vero in Italia anche se in realtà per esperienza in me personale un po' ovunque però in Italia soprattutto perché è un paese dove governa la destra secondo me perché almeno qui a Roma proprio secondo me perché c'è la chiesa e quindi ci sta non ci eviterebbe abbiamo già dato non mi voglio sollicare non mi voglio sollicare abbiamo già dato no no però c'è una certa c'è una certa fetta è chiudere chiudere c'è una certa fetta di popolazione un po' repressa e quindi che magari forse non accetta se stesso e allora piuttosto che andare direttamente con un uomo va con una transa anche se comunque io credo che ci sanno un po' due categorie di uomini e quali sarebbe? c'è la categoria che va con le trans proprio perché piace esteticamente vedere una donna secondo lei la maggior parte di quelle persone che vogliono andare con lei è per essere passivi o attivi? passivi no e questa è la differenza ci stanno queste due categorie c'è quella parte di persone che viene con me esclusivamente perché vede il lato femminile ok e quindi perché lei sembra gentilmente una femmina ok e poi ha quel superpotere ok bravissimo una sorpresina poi ovviamente ci sta quell'altro lato che ovviamente la maggior parte sì sì non mi faccio problemi sì ma figuriamoci non mi faccio problemi ma figuriamoci ma certo e quindi lei non se lo taglierebbe mai? no mai mai benissimo lei ha qualche si offedezza qualche fissazione particolare qualche attrazione i piedi i piedi no zero i piedi non ha il feticismo dei piedi no non capisco d'altra parte gli ultimi anni non li ha passati dai dobbiamo chiudere è giusto arrivederci ciao italiani italiani ciao 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 ciao